Finale rovente allo stadio Wanda Metropolitano. Durante il match di Champions League si è accesa una rissa clamorosa tra i calciatori dell'Atletico Madrid e quelli del Manchester City. Tutto è iniziato da un brutto fallo commesso ai danni di Foden. Felipe, difensore dell'Atletico, è stato espulso dal direttore di gara, che inoltre è stato chiamato a placare gli animi. La terna arbitrale ha concesso 9 minuti di recupero. Tempo che non è servito ai calciatori del gioco per recuperare lo svantaggio dell'andata. A passare il turno è stato il City di Guardiola. Per ora è tutto. Non ci resta che tenervi aggiornati in tempo reale sul mondo del calcio.